E' andato via, fortissimo, l'atleta di casa Ferron e Giacomo Mariani, primissima posizione Di Capri in seguito dall'audace sportivo Pismate Ferrari, Andrea, eccolo qua Andrea Ferrari In seconda, in terzo, abbiamo ancora le mannotte La Samantha è una campionessa di foco E' una disciplina che si effecua stile, solo stile Delizio Marte 4 alla onza, complimenti a Samantha Numero 359 E anche al numero 206